Le regionali sono andate bene per lei, dottore? Sì, ho ottenuto circa 3.000 preferenze, era la mia prima corsa alle regionali, sono arrivato terzo tra i candidati del Partito Democratico, secondo è arrivata Rachele Scarpa, una giovane ragazza molto in gamba, di 23 anni, con tanta grinta, tanta voglia di cambiare il mondo, quindi insomma, bene così, sono molto soddisfatto e si sapeva che era una corsa impari, d'altronde, adesso non so se posso dirlo già adesso, ma Zaia, prima fa di tutto per avere il monopolio dell'informazione, due ore ogni giorno in televisione, poi viene eletto e dice sento una grande responsabilità perché non c'è più l'opposizione in questa regione, dico hai fatto di tutto per metterci in un angolino in cui nessuno sapeva manco quello che volevamo fare perché c'eri sempre solo tu a parlare e poi ti lamenti che dobbiamo sperare nella corte d'appello perché, come dire, per avere due persone di una forza politica di opposizione importante che porta delle sensibilità come i 5 stelle, insomma, l'ho trovata una cosa un po' paradossale. Vabbè, affronteremo.